Vado io? Beh, direi un commento che deve essere sintetico. Mi ha fatto una grande partita. Credo che il punteggio sia anche un po' bugiardo rispetto a quello che è stato il vero andamento della partita perché per come abbiamo condotto la partita, per come abbiamo anche difeso, per come avevamo anche l'inerzia della partita probabilmente per come è andata non è stata una partita da ultimo possesso. Poi naturalmente è venuta fuori un bellissimo finale che credo mi ha portato a casa una vittoria meritata. Questa squadra da partita di Monaco di Baviera dove siamo venuti a casa è vero con 25 punti ma in quel momento lì noi abbiamo cominciato a costruire la nostra rinascita. Abbiamo fatto naturalmente la partita di Pistoria è stata molto importante perché ci ha sbloccato e adesso naturalmente siamo a tre vittorie di fila e questo ci dà grande soddisfazione anche per come è avvenuta, anche per il momento in cui è avvenuta. E adesso la cosa più importante è sfruttare questi 15 giorni che abbiamo per rimetterci a posto tutti fisicamente. Faremo praticamente un mini ritiro per cercare di rimetterci a posto tutti quanti per riprendere le grandi energie, per riaccogliere quelli che saranno in nazionale quando rientreranno e poi dopo ricominciare alla grande cercando di continuare con questo trend positivo che finalmente siamo riusciti a innescare.